Ciao a tutti e ben ritornati su Prova Guadagna Crea. Pronti per un nuovissimo tutorial creativo? Realizziamo insieme questa bellissima bambola ballerina. Iniziamo disegnando un cerchio di diametro 25,5 cm totali e ricavando poi successivamente questo piccolo cerchio interno di diametro 7 cm. Questo ci servirà per avvolgere il velo della bambolina. Il velo io praticamente l'ho comprato al metro e ho comprato un metro e in altezza era già 3,5 m circa. Dobbiamo aprire poi tutto questo pezzo di velo molto grande e ricavare delle strisce lunghe di 14 cm di larghezza per la lunghezza, come vi ho detto prima, 3 m, 3,5 m. Iniziamo ad avvolgere il primo pezzo di velo intorno a questo cerchio, entrando ed uscendo dal cerchio più piccolo interno al cerchio grande. Finito di legare il primo pezzo di velo, attacchiamo il secondo velo legandolo all'estremità, a quello già intorno al cerchio. Quindi facendo un semplice nodo continuiamo ad avvolgere il velo intorno a questo cerchio e così via. Io ho praticamente usato tutto il velo ed ecco quello che dobbiamo ottenere. Adesso prendiamo delle forbici e dobbiamo tagliare tutto intorno a questo cerchio in modo che si formeranno praticamente due batuffoli che poi andranno legati insieme e tirati fuori da questo cerchio qui. Aggiustiamo un po' con le forbici qui e là dove ci sono dei pezzi più sporgenti oppure dove ci sono quei nodi che si vedono. Adesso per fare la faccia della bambola ci servirà una stoffa chiamata licra, color carne, e ci servirà un pezzettino in base praticamente al corpo, quindi al batuffolo che abbiamo fatto di velo, un pezzo di circa, ma è anche abbondante, di 30x30 cm. Posizioniamo l'imbottitura al centro della stoffa e chiudiamo questa tirando un po'. Successivamente poi andiamo a chiudere questa specie di pallina con ago e cotone. Tagliamo poi la stoffa in eccesso. Adesso dobbiamo disegnare gli occhi con un pennarello nero indelebile, con la punta sottile. Quindi iniziamo facendo gli occhi, disegnando due cerchietti praticamente, fare dei cerchi all'interno più piccoli e colorarli tutti di nero. Ovviamente il disegno del viso, quindi degli occhi, della bocca, potete personalizzarli come volete. Disegniamo poi qualche ciglia inferiore e le ciglia superiori. Poi utilizzo un correttore, quello per le penne, praticamente che si usa a scuola e negli uffici, per fare gli occhi un po' più espressivi. Disegno poi le sopracciglia, un piccolo naso e una bocca. Il nostro viso praticamente è pronto. Non ci resta adesso che formare i capelli con della lana. Ci sono vari modi per formare con la lana la parrucca di questa bambolina. Io ho deciso di formarla in due parti. La parte davanti, cioè formata praticamente da una riga e dei ciuffi laterali e poi la parte di dietro che poi ho raccolto e formato uno chignon da ballerina. Per prima cosa ho formato parecchia lana fatta da queste strisce più o meno lunghe, una ventina di centimetri, forse un po' di più. E poi successivamente le ho legato, non proprio al centro, un po' più di lato, stesso con la lana, le ho legato questa striscia per formare una riga. Poi ho formato un'altra parte di lana per fare la parte di dietro dei capelli. Quindi per prima cosa andiamo ad attaccare la parte dietro dei capelli e coprire tutta quella imperfezione dell'attaccatura dietro con il ciuffo che abbiamo fatto prima, quindi con quella parte che verrà davanti. Le strisce di lana che ho fatto per formare la parte dietro della parrucca sono ovviamente più lunghe della parte davanti. Poi ho pensato di inserire qualche altra strisciolina di lana e legarla nella riga in modo da formare una piccola frangetta. E poi ho aperto un po' la lana per fare qualche ricciolo, oppure si poteva anche lasciare in così. Aggiustando la parrucca con le forbici, quindi tagliando un po' dei ciuffi, dopo ho fatto un codino con la parte più lunga, quindi la parte di dietro, e ho formato uno chignon. Dopo prendiamo il nostro batuffolo di velo e con la colla dobbiamo attaccare la testa sul batuffolo. Con alcuni prodotti che realizzo il mio make-up ho utilizzati anche per colorare un po' le guance e dargli un po' di colore sul viso di questa bambola. E' l'ora adesso di formare le gambe. Per formare le gambe abbiamo bisogno di questo cartamodello che potete disegnare facilmente da sole. Ho fatto due linee di 20 cm, uno sopra e uno sotto, con larghezza 4 cm. E poi ho formato il piede, largo 3 cm e alto 7 cm. Tenete conto che 20 cm è abbastanza lunga la gamba e sicuramente non utilizzerete tutti e 20 cm. Però quando l'ho disegnata mi sono mantenuta un po' più lunga per poi potermi regolare vicino la bambola. Adesso prendiamo la nostra licra, la stoffa che abbiamo utilizzato per fare il viso della bambola, e mettiamola faccia con faccia, quindi a doppio. E ricopriamo la sagoma di questa gamba sulla licra. Blocco le due parti con gli spigli e poi taglio molto lontano dal disegno la sagoma. Dopo passo tutto a macchina. Però dobbiamo ricordarci di lasciare la parte sopra della gamba aperta, perché poi dobbiamo girare il lavoro. Dopodiché taglio la stoffa in eccesso, tolgo gli spigli e giro la gamba, in modo che la cucitura viene tutta nascosta. Una volta riempita la gamba con dell'imbottitura, possiamo o tagliare la stoffa in eccesso oppure piegarla verso l'interno, quindi calcolando bene la lunghezza delle gambe sulla bambolina, e vado a cucire il punto di apertura sotto la macchina. Successivamente con la colla a caldo, bloccare le gambe sotto il batuffolo della bambolina. Ho utilizzato poi un nastrino per dare l'idea delle scarpe da danza da ballerina, e messo poi una decorazione tra i capelli. Questa è la nostra bambolina danza finita. Che ne dite? Molto carina, vero? Se vi è piaciuta questa idea e il video, mi raccomando lasciate un bel like. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, attivando la campanellina. Seguitemi anche su tutti gli altri social, dove trovate i link direttamente nelle info del mio canale. Sempre sul mio canale trovate anche la scheda community. Io come sempre vi ringrazio per la visione, e vi mando un grosso saluto. Ciao a tutti!